Ombre Sensiel di Chanel. Parliamo di una bellissima novità per il nostro sguardo. Nuovi ombretti, 14 tonalità moderne, opache, satinate e metallizzate. Le potete utilizzare in tre modi, come eyeliner, sulle sopracciglia o come ombretti classici. Abbiamo delle polveri sottili, leggerissime e a lunga tenuta. Inoltre all'interno c'è addirittura l'olio di salvia proprio per garantirvi un'idratazione ottimale. Io oggi ho applicato questo, il Lille Pudre 2-3-2. Lo potete vedere da vicino nei miei occhi. Sfumato insieme al numero 222, il Jade Facete. È meraviglioso, luminosissimo e a me è piaciuto tantissimo. Inoltre abbiamo due bellissime mascara innovativi, un colore lui, l'orange brun, bellissimo e il colore Lilla. Eccolo qua, nuovissimo in casa Chanel. Sono edizioni limitate per cui non tardate troppo perché vi aspetto per indossarli.